Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni, non so cosa vi faranno fare, nel senso che qui è tutto bloccato. L'obiettivo è buttare tutti su per i boschi e occupare militarmente l'area. Ci hanno detto che forse noi miliatori potremmo stare in 5 in un territorio recintato. Comunque il punto non lo so nemmeno io onestamente. Se tu arrivi a Chiamonte puoi arrivare all'inizio, poi non so se ti faranno passare. L'importante è far casino a questo punto, anche solo chiedere che smettano immediatamente con l'operazione, visto che oltretutto il terreno l'hanno occupato, quindi il piazzale l'hanno tenuto. E quindi non c'è motivo di perseguire la gente nei boschi. Dai, 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 dai come riesci. Prendi l'autostrada e la da Susan, però se sei aperta, dai, se sei a Susan. Comunque se ne ho prendi la statale fino a Chiamonte. Scusa, ciao. E allora? Scusa, ciao. E allora? Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì.